Nessuno resterà a piedi. E' questo il senso del progetto Muoversi in Comune che parte da San Casciano-Valdipesa ma che ben presto potrebbe essere esteso a tutto il territorio regionale. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, è stato presentato a Firenze dagli assessori regionali alla partecipazione Vittorio Bugli e alla mobilità Vincenzo Ceccarelli insieme al vice sindaco di San Casciano, Donatella Viviani. A disposizione dei cittadini sarà messo un bus navetta che migliora i collegamenti tra le frazioni e il capoluogo, integrando il servizio di trasporto pubblico. Obiettivo? Ridurre il traffico delle auto private ed evitare che chi non ha un mezzo proprio resti escluso. Tutto è nato da un sondaggio che a ciascun cittadino rivolge un preciso invito. Perché non lo scrive in una bacheca? E se ci sono altri cittadini che più o meno fanno questi movimenti? Non si condivide insieme questa mobilità? Il progetto prevede anche la possibilità di affiancare alla navetta il sistema di car sharing, cioè di condivisione delle auto private tra cittadini che devono compiere lo stesso tragitto e che possono accordarsi tra loro comunicando attraverso apposite bacheche. E ora si guarda già oltre il progetto pilota. Se ci sono delle buone idee, delle buone pratiche vorremmo farle diventare utili per tutti e realizzarle a livello regionale laddove si vogliono realizzare. I tempi potrebbero essere brevi e per la regione il progetto potrebbe diventare parte integrante del modello di mobilità toscano.